Beh, nonostante la chitarra io contro la caccia, però voglio spaccare il culo dei passi di oggi, grazie i vostri, e sono anche pacifista, però è un pacifismo non da strada, e voglio iniziare proprio con una canzone pacifista, è una storia vera successa in Albania nel 1997, parla di un uomo comune che ha fatto una delle cose migliori, appunto contro la guerra. Si intitola la musica del canale, c'è l'importante. L'uomo dei libri, passeggia in pietro, nella sua casa, guarda all'esterno, vantetti bastardi, hanno preso il potere, l'unica legge è quella delle armi. L'uomo dei libri, passeggia in pietro, Ormai l'anginante, niente come prima, derubate nella guadagnia. Non è per più male, sembra irreale, vedere un bambino con un fuggito in mano. Non è questo il futuro, non è questa la sua vita, non è questo che voleva per la sua famiglia. Non è questo che voleva per la sua famiglia. Non è questo che voleva per la sua famiglia. Non è questo che voleva per la sua famiglia. Non è questo il futuro, non è questa la sua vita, non è questo che voleva per la sua famiglia. Non è questo che voleva per la sua famiglia. Non è questo che voleva per la sua famiglia. Non è questo che voleva per la sua famiglia. Non è questo che voleva per la sua famiglia. per una canzone tradizionale russa che non esiste ma la sono inventata io giusto per fare il figo e si intitola Mishka Lorsso Mishka Lorsso Mishka 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 Oggi era il compleanno di mio figlio, ha compiuto due anni e come tutti i bravi papà gli ho dedicato una canzone che adesso provo a farvi perché non l'ho provata e non so se non la ricordo ma io ci provo, si titola Nina Nanna, giusto? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Grazie a tutti 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 Grazie a tutti